Un minuto. Un minuto. Ok. Bene, possiamo iniziare. Buon pomeriggio a tutti. Conferenza stampa del match da E-1 in vista della gara di domani sera Italia Galles a Roma Stadio Olimpico con il CT Roberto Mancini e con Andrea Belotti. Iniziamo dalle prime domande. Andrea Elefante, vedo prenotato, la Gazzetta dello Sport. Lo vedi lì, Andrea, adesso si collega. Vedete? Mi sentite? Sì, adesso sì. Allora, faccio una domanda a Roberto e una ad Andrea. A Roberto, provo a farti una domanda come la fecero a Murigno il giorno della sua prima conferenza. Basta che non ci rispondi che non sai un pirla. Volevo sapere se a Verratti per un rientro che noi ipotizziamo sia sufficiente giocare un quantitativo di minuti limitato o se pensi che per capire come sta in vista degli ottavi sia necessaria una bella fetta di partita? No, io penso che Marco abbia bisogno di giocare. Fino ad oggi, insomma, avrà tanti giorni che si allena e tanti giorni che si allena anche con i compagni. Sta bene. Vediamo quello che lui si entra in campo, come è probabile che sia, come starà poi dopo la fine del primo tempo. Vedremo anche le sue condizioni e le sensazioni che avrà. Valuteremo lì. Grazie. Andrea. Claudio. No, io non ho toccato niente. Andrea, Claudio. Aspetta. Io spingo, ma non va. Andrea, ti recuperiamo fra un attimo. Passiamo a Daniele Fortuna, Radio Rai, poi recuperiamo Elefante. Per Roberto Mancini, poi una domanda anche per Andrea Belotti. Vado per la domanda per il commissario tecnico. Visto che imperversano sui social e non solo tutte questioni legate al possibile piazzamento, al fatto che magari sarebbe meglio arrivare al secondo posto, io le chiedo quanto è importante invece di fare un'altra grande partita con i Legales e vincere? Per noi è importante giocare, giocare bene e cercare di vincere. Questo non è che abbiamo altri obiettivi. Insomma, si gioca per vincere solitamente. Quindi questo è il nostro principio e insomma, teremo fede a questo. Bene, per Andrea Belotti. Sul rapporto con Ciro Immobile, perché mi ha colpito, forse magari mi sbaglio, la sostituzione durante la partita con la Turchia? Lui aveva segnato e sembrava quasi fosse dispiaciuto nei tuoi confronti, no? Come a dire? Adesso il titolare sono io, ma insomma questa è veramente una grande cosa nel vostro rapporto di amicizia. E poi però significa anche che titolari potete essere tutti e due. Ma guarda, sicuramente non era dispiaciuto perché ha fatto gol e abbiamo vinto la partita. Però quello che devo dire è che io sono contento per lui quando fa gol e soprattutto quando aiuta la squadra a vincere. Perché qui rappresentiamo una nazione. Se fa gol lui è per il bene di tutti. Quindi chiunque il mister scelga di mettere in campo siamo tutti in un'unica direzione verso un unico obiettivo. Quindi io sicuramente c'ho un bel rapporto con Ciro e se fa gol lui e la squadra vince è tutto di guadagnato. Grazie. Allora, recuperiamo la domanda di Andrea Elefante e poi Donatella Scarnati. Qualcuno lo mette il muto? Andrea, l'audio? Andrea, dovresti mettere l'audio? Andrea, riproviamo. Passiamo a Donatella. Sì, riproviamo. Passiamo a Donatella e poi recuperiamo Andrea. Roberto, buonasera Roberto. Ti volevo chiedere, quanto ti dà fastidio la parola biscotto? E poi un'altra domanda. Rispetto alla partenza, adesso è diventata la nazionale di tutti. Rispetto alla partenza, quanta gente è salita su quel carro? Quanto è diventato pesante quel carro? E quindi poi a proposito di carro e pullman, ti chiedo di viali, che è l'ultimo a salire. Certo non è che ve lo dimenticate, probabilmente è diventata anche un rito, un po' una scaramanzia che sia l'ultimo a salire. Cominciamo dall'inizio. No, allora, la nazionale è di tutti, è sempre stata di tutti e quindi magari all'inizio c'è sempre un po' più di freddezza, poi più si va avanti e si fa le cose per bene, è chiaro che ci si appassiona di più. Luca nel primo giorno ce lo siamo dimenticati effettivamente. E poi qual'era l'altra? No, il biscotto. Il biscotto si usa quando ci sono due squadre, era quella del biscotto, giusto? Sì, la prima sì. Sì. Quando ci sono due squadre che hanno un obiettivo, lo stesso risultato per andare avanti. Diciamo che questo è un problema che non ci riguarda, fortunatamente, perché abbiamo già sei punti, quindi siamo già agli ottavi. Insomma, o andiamo a Londra o andiamo ad Amsterdam. Dipende dal risultato finale. Non è una cosa che può riguardare noi in questo momento. Sì, ma ti dà fastidio proprio... La tua mentalità è un'altra, no? Far calcoli per andare da una parte del tabellone. Andremo dove capiterà di andare. Insomma, non avremo grandi problemi né incontrare una squadra, né incontrare l'altra. Se c'è da andare ad Amsterdam, perché alla fine arriveremo secondi, andremo ad Amsterdam. Se c'è da andare a Londra, andremo a Londra. Non abbiamo nessun problema, ma chiaramente noi giocheremo per vincere. È una partita difficile, visto che è la terza in dieci giorni. Prima di passare a Monica Vanali, che abbiamo già collegato, mi ha mandato la domanda Andrea Elefante per Belotti. Tutti voi, come Mancini, dite che in questa squadra non ci sono titolari riserve. Il vostro è un ruolo delicato. Si può dire la stessa cosa per i centravanti? Ti dico di sì, perché il mister c'ha sempre, almeno parlo della situazione mia, di Ciro, anche degli altri attaccanti, tante partite c'ha sempre alternato. Però, ripeto, come ho detto prima, siamo in 26 e siccome questa Italia vuole arrivare in fondo, io penso che ci sia bisogno dell'aiuto di tutti. Poi abbiamo un mister molto preparato che è in grado di fare le scelte migliori in base anche alla partita. sta solo a noi farci trovare pronti, perché ci sono, ripeto, ci sono partite molto difficili e quindi c'è anche un dispendio di energie elevato. Andegallo! Buone possibilità di giocare tutte le partite. Monica, prego. Eccoci qua, buongiorno. Innanzitutto voglio capire il Galles, individualità, eccetera, però esattamente entrambi che cosa temete? Soprattutto, voglio dire, al CT Mancini. E a Velotti voglio chiedere, è umiliante eventualmente per voi un'onta nel caso in cui arrivate secondi? Grazie. Il Galles è una squadra difficile da affrontare, oramai anni che veleggia nella parte alta del ranking, e quindi vuol dire che ha giocatori di qualità, è una squadra britannica, quindi forte fisicamente. Sarà una partita difficile, perché comunque hanno quattro punti, quindi non sono gli ultimi arrivati. Hanno fatto già una semifinale di un europeo, se non sbaglio, quindi, insomma, sarà una partita dura da giocare bene, cercando di vincerla. Questo è il nostro obiettivo. Io ti dico che è umiliante e penso di no, perché fino a quando abbiamo iniziato il girone, il nostro obiettivo era quello di passare il turno e ci siamo riusciti già con una giornata di anticipo. Quindi, a prescindere che o andiamo a Londra o andiamo ad Amsterdam, la situazione non è che è umiliante, anzi, è un passaggio avanti. Poi, più avanti più è normale che magari incontri squadre più forti, però questo potrà capitare sempre, sia dagli ottavi come dai quarti in semifinale, o anche un'eventuale finale. Quindi, penso che dobbiamo essere sempre pronti e preparati ad ogni partita, perché qualsiasi avversario avremo di fronte, noi dovremmo fare sempre il nostro gioco con la nostra mentalità. Allora, abbiamo David Pritchard di BBC Sport. Vi chiedo soltanto la cortesia di fare una domanda o per il mister o per Belotti, altrimenti abbiamo diverse richieste e non riusciamo a soddisfarle. Prego, David. No problem. Thank you. One question in English, if possible, for Roberto. In Wales and the UK, everyone has been very impressed with Italy's form in recent years. I was wondering if you could tell me what you think the kind of key principles are to the way that you've transformed Italy's fortunes in recent years. A che cosa è dovuta questa trasformazione del gioco italiano? È dovuta a un momento delicato della nostra nazionale. C'è stato un ricambio generazionale con giovani che volevano anche fare qualcosa di più, però ricordando sempre che noi abbiamo vinto quattro mondiali con il nostro gioco, quindi la fase difensiva diventa comunque sempre fondamentale. Una squadra deve avere un buon balance perché si deve difendere bene, attaccare bene. È chiaro che abbiamo provato a cambiare la nostra mentalità, soprattutto per la fase offensiva, cercando di attaccare molto di più. C'è stato un buon mix, ci siamo trovati bene, i ragazzi sono stati bravi, quindi merito a loro di aver assimilato in fretta questo tipo di gioco. David Enderson del Deli Express. Roberto, will this game against Wales remind you of your time at Manchester City when you played maybe teams like Stoke in the Premier League? Le ricorderà un po' il suo passaggio a Manchester City quando ha affrontato squadre del tipo Stoke City, per esempio? Stoke, campo difficile, difficult pitch. Stoke aveva un tipo di gioco veramente difficile da affrontare. Il Galles è una squadra che gioca anche perché ha giocatori tipo James, Bale, Allen, giocatori di qualità e quindi anche tecnici, molto tecnici. Sarà una partita sicuramente molto tosta a livello fisico perché il Galles oltre ad essere tecnico che chiaramente rispecchia un po' la fisicità britannica e quindi la partita sarà dura anche per questo. Devo schiacciare quando faccio la domanda? Alessandro Bocci, Corriere della Sera. Abbiamo altre quattro richieste, non prenotatevi più perché non faremo in tempo. Quindi dopo Alessandro Bocci, gli ultimi quattro prenotati. Vai Alessandro. Buongiorno Roberto, mi sentite? Sì. Ecco, Roberto scusa, tutti ora cominciano a guardare l'Italia. Hai tolto il microfono? Il microfono, Ale. Ale, il microfono. Passiamo a Paolo Brusorio, all'ora della stampa. Ci sei Paolo? Ci sono, mi sentite? Mi sentite? Pronto? Sì, vai. Una domanda per Andrea. Buongiorno Andrea, buongiorno Roberto. Se ti vediamo qua, perché probabilmente domani sarai titolare, come ti immagini l'esordio nella tua prima competizione internazionale e se hai un po' di quella sana emozione per rompere il ghiaccio? Dal primo minuto, ovviamente. Intanto ti dico che ci spero, perché io, ma anche tutti i miei compagni, chiunque sogno di giocare titolare a un europeo. Per ora non sappiamo niente, dipenderà dal mister e dalle scelte che farà domani. Sicuramente ti posso dire che è emozionante, come per me è stato emozionante nella prima partita, anche se non sono partito da titolare, però era la partita a debutto in casa. Rivedere i tifosi allo stadio, per me già quella è stata un'emozione grandissima. Poi ovviamente se avrò la fortuna di giocare titolare sarà tanto di guadagnato, perché partecipare comunque a una competizione importante con l'europeo e farlo magari in una partita da titolare è una grandissima emozione. Grazie. Alessandro Bocci vuoi riprovare? Andiamo avanti con Andrea Santoni Buonasera, ciao Roberto. Volevo chiedere, adesso siamo alla vigilia, insomma domani si gioca alle 18, se tu hai a questo punto puoi dare un'indicazione su che tipo di turnover metterai in atto, cioè nel senso anche perché volendo vincere, volendo mantenere una fisionomia eccetera eccetera, a un certo punto tu dovrai, questo famoso bilanciamento di cui tu parlavi, se tu ci puoi dare un'indicazione in questo senso, insomma se sarà veramente un'altra Italia proprio fedele al morto che tu stai spingendo dall'inizio, nel senso qui sono 26 titolari, quindi io non ho problemi da questo punto di vista. La cosa ti potrebbe permettere anche di fare un turnover importante da questo punto di vista. Ma questo quando lo dico è perché lo penso, perché se tu vai indietro e prendi una partita decisiva di qualificazione alla fase finale della National League dove l'attacco era Insigne, Gallo e Bernardeschi, è un trio d'attacco che potrebbe giocare anche domani, poi c'è Federico, Chiesa che comunque è un titolare, se cambiamo i difensori, se cambiamo qualche difensore, la difesa, la linea di difesa contro la Polonia, contro Lewandowski, Milik eccetera, era Emerson, Acerbi, Bastoni, Florenzi, quindi quando io dico che sono tutti titolari è perché secondo me se noi cambiamo qualcosa, e chiaramente domani dobbiamo farlo perché sarebbe la terza partita, l'avremmo fatto ugualmente, anche se fosse stata una partita decisiva, perché la terza partita in dieci giorni, giocando alle 18 con 32 gradi, abbiamo bisogno anche di giocatori freschi, e se noi cambiamo qualcosa io credo che non cambia alla fine il risultato, insomma poi nel calcio si può perdere o vincere, ma i giocatori riusciranno a dare sempre quello che hanno dato fino ad oggi. Allora, prima Salandin è già collegato, abbiamo la domanda di Bocci che ci ha mandato per sms, tutta l'Europa, per il mister, tutta l'Europa parla dell'Italia come della squadra più bella, volevo sapere se questo crea pressioni negative al gruppo. Più bella? Non lo so, siamo dei bei ragazzi, questo sicuramente, ma ci fa piacere che si parli così, e questo credo che ci debba far cercare di dare sempre del nostro meglio, cercare di migliorare, insomma, pressione non ce la crea, è una cosa che ci fa molto piacere. Stefano Salandin, abbiamo tre minuti, prego Stefano. L'audio. Eccoci, ciao. Sì, sì, vai. Intanto complimenti per il modo in cui siete riusciti a metabolizzare in modo straordinario questa prossemica delle conferenze da distanza, perché siete fantastici. ma, ecco, è questo che volevo chiedervi. Quanto cambia, non credo che vi dispiace non averci tra i piedi a Coverciano agli allenamenti, ma quanto cambia un europeo così strano in una bolla, Roberto? Cosa hai dovuto cambiare o sei tutto uguale a prima? No, cambiare, insomma, io è il primo europeo che faccio da CT, ne ho fatti da giocatore, non cambia molto, è chiaro che, insomma, il problema è un po' che oramai è quasi un mese che siamo insieme e a volte c'è anche bisogno per 24 ore di non vedersi, perché, insomma, abbiamo bisogno anche di non pensare ad altro se non al calcio, insomma, questo diventa anche difficile, quindi i giocatori a volte hanno bisogno anche per almeno un giorno, un giorno e mezzo, non vedere nessuno e farsi gli affari loro. Questa è un po' la problematica, visto che siamo in bolla. Abbiamo già collegato Paolo Franci, se non sbaglio, Paolo ci sei? No, Paolo non c'è, e allora andiamo all'ultima richiesta. Daniele Lomonaco, il romanista. La domanda ce l'avevo per Andrea, che ha giocato all'Olimpico diverse volte da avversario. Attenzione alla domanda, rispondi bene. Che si proverà domani sera a giocare centravanti della squadra di casa all'Olimpico? È un pensiero che fai anche per il futuro? Paolo, scusa, però come sai, noi non entriamo in questioni di mercato, di futuro. No, no, no. La prima partita di Italia Galles. Eh, Italia Galles, è centravanti della squadra dell'Italia. La parliamo di Italia Galles, quindi giocare da centravanti dell'Italia, ok. Eh, dell'Italia. Non il futuro. Va bene. Ma, eh, per me è motivo di orgoglio, nel caso di essere così, essere titolare nella partita di domani, perché io ogni volta che, che vesto la maglia azzurra, per me il fatto di rappresentare il mio paese, è qualcosa che mi gratifica tantissimo a livello personale. quindi, come ho detto prima, se avrò questa opportunità, sarò pronto a dare tutto me stesso, cercare di aiutare tutti i miei compagni, per regalare ancora una volta una gioia a tutti i tifosi italiani. Abbiamo già collegato che si è ristabilito Paolo Franci. Prego Paolo. Ciao Roberto, buonasera. Buonasera a tutti. Volevo chiederti, rispetto a quelle che sono state le impressioni, o anche le tue, le tue conclusioni, rispetto alle squadre più forti, quelle con cui l'Italia si deve confrontare, no? La Spagna, la Francia, che oggi pareggia con l'Ungheria, la Germania, nessuna di queste squadre ha espresso, probabilmente, quello che ci si aspettava. Volevo un tuo giudizio su questo, cioè un piccolo bilancio, rispetto alle avversarie. Cioè, te le aspettavi più in forma, messe meglio, più forti, oppure più forti, rispetto a quello che hai visto, o non è cambiato niente, senza fare troppa predattica o scaramanzie? No, ma non è cambiato nulla, perché comunque sono due partite. le squadre abituate a giocare questi tornei, a vincerli, come la Francia, il Portogallo, insomma, la Germania, sono squadre che poi, durante il torneo, trovano la condizione, la forma, la continuità, quindi sono pieni di giocatori straordinari. Quindi il fatto che la Francia abbia pareggiato con l'Ungheria non cambia assolutamente nulla. La Francia rimarrà probabilmente la favorita per l'europeo, perché è il campione del mondo e perché è una squadra giovane che continua a migliorare. E poi ci saranno anche le altre, il Belgio e probabilmente il Portogallo. Quindi secondo me non cambia assolutamente nulla. Siamo in conclusione. Diamo solo l'ultimo flash, Maurizio Pizzoferrato Aria, per favore, domanda breve, che dobbiamo andare all'acquacetosa. Sì, mi sentite? Sì, vai, vai. Allora, grazie Paolo. Volevo fare una domanda a Belotti. Ciao Andrea, senti, fino a poco tempo fa si diceva che bella nazionale, peccato che manchi il grande centroavanti. volevo sapere, se questa cosa, dato che sei amico con Immobile, ne avete parlato, magari un po' infastiditi, come l'avete commentata, se ci avete riso su. Ma, ti devo dire che, sì, l'abbiamo, l'abbiamo sentita, però allo stesso tempo cercavamo di rimanere concentrati su noi stessi, su quello che ci chiedeva il mister, perché alla fine, ok, il centroavanti dovrebbe essere quello che fa gol, ma se il centroavanti riesce a far girare bene la squadra e la squadra vince, imponendo anche un gran bel gioco, io penso che anche il centroavanti abbia un ruolo importante, anche se non segni. 45-45-45 Quindi non era un fatto, ti dico, pesante, perché sapevamo entrambi che le caratteristiche per poter fare cose importanti nazionali le abbiamo e quindi stava solo a noi di mostrarlo sul campo. Grazie. Grazie Andrea, grazie al mister, allenamento 18-30 all'Acquacetosa. Grazie. Grazie. Grazie.